Siamo qui, fuori scusso. Siamo qui. Siamo qui. E delle passioni, così. E questo ci riguarda più da un viaggio interiore, diciamo. Ilaria, è stata dura scegliere tra le tante canzoni che avevate comunque confezionato? Abbastanza perché in realtà poi ne abbiamo prodotte, nel disco ci sono undici brani, che è un po' una cifra che a noi piace, un numero che ci piace mantenere. Infatti tutti i dischi contengono undici brani, però ne abbiamo registrate un po' di più. E alla fine quelle che anche hanno seguito di più una maturazione durante la preproduzione, che ci hanno convinto. Magari andranno a fine e poi in seguito in un altro lavoro, ma hanno bisogno di più tempo per maturare. Per cui alla fine è stato anche un processo istintivo quello di dire, ok, queste sì, queste no. Magari andranno a fine. Magari andranno a fine.